La freschezza e la bontà del latte sulla tua tavola Per una colazione ricca di energia e allegria, latte fresco sila, che energia la bontà Un raggruppamento interno all'altro per un rendamento di 10 milioni di euro per finanziare un'università privata Non ci vendiamo né per 10 mila né per 10 milioni Come è accaduto Perché Berlusconi lo mettiamo sotto accusa per 2 milioni di euro che avrebbe pagato un senatore all'epoca di Gregorio Di soldi suoi, ove sia vero Però sentiamo 10 milioni di denaro pubblico a qualcuno per farlo passare dalla nostra parte E' tutto normale Questa è la vergogna di questo paese al di là di ogni consergio Stato quotidiano, siamo all'inaugurazione del circolo di Forza Italia In seguito all'ascissione del centrodestra con il consigliere regionale avvocato dell'ex PDL Gian Diego Gatta Protempore, coordinatore, responsabile del circolo Perché l'inaugurazione di questa sede? Perché per ogni cosa nuova, per ogni percorso nuovo bisogna brindare E bisogna soprattutto tracciare quelle che sono le linee programmatiche, progettuali del futuro che ci si prefigge di costruire Abbiamo inteso fare questa inaugurazione, era necessaria, così come per ogni cosa nuova E questa sera abbiamo tracciato la rotta C'era tutto l'equipaggio che abbiamo conservato inalterato Per lo meno per quella che era la composizione di questo circolo Perché prima il PDL si componeva di due circoli a livello cittadino Ne è rimasto uno che è questo, che è confluito naturalmente in Forza Italia Che noi riteniamo la naturale prosecuzione del popolo della libertà È stato un bel momento, anche di festa devo dire Ho rivisto che è stata la cosa più commovente Facce che si erano smarrite Volti che da tanto tempo non avevo avuto più il piacere di incrociare Quindi siamo riusciti a recuperare tanta gente che per motivi vari Si era disaffezionata non solo e non tanto al partito Ma alla politica in generale Quest'attività di recupero deve continuare Dobbiamo recuperare al valore della politica Quella con la P maiuscola Tutte quelle anime talvolta anche a ragione perse Città Manfredonia, non diciamo mal derisa Però è un vivo momento di ottimo punto di vista occupazionale Molti chiedono una sua ipotetica candidatura al sindaco Lei vuole dire nel 2015 quale sarà la sua posizione? Io sono estremamente lusingato E davvero aggiungo commosso Delle attestazioni di stima e di affetto Che mi provengono da ogni spaccato della società civile sipontina Lo si dice da anni Me lo chiedono ragazzi, ragazze Me lo chiedono anziani Professionisti disoccupati Di gente, di ogni ceto, di diverse sensibilità Sono davvero commosso perché mi onorano Della loro attenzione e del loro apprezzamento Il problema è che io ho iniziato un percorso Alla regione Puglia Un percorso che si prefigge di portare Di far sentire, di far levare sempre più forte La voce della nostra capitanata E in particolar modo Di Manfredonia e del Gargano Che sono quotidianamente marginalizzati Rispetto alle politiche di pseudo sviluppo Che il governo Vendola si prefigge Anche a livello locale un ruolo forte Esatto Un ruolo forte alla regione Se dovessimo vincere Perché non è un mistero per nessuno Che se dovessimo vincere E se bontà loro Gli elettori riterranno di conferirmi Ancora una volta la loro fiducia Un mio ruolo forte All'interno del consesso regionale Potrebbe sicuramente significare Per Manfredonia Maggiori attenzioni Maggiori aperture di credito Perché credo che questo territorio Non le abbia avute Ci sarà tempo Per la candidatura a sindaco Le spinte potranno venire dalla ragione Non da livello locale Perché se a livello locale Nel 2015 non c'è un candidato A livello locale dovremmo trovare Il miglior candidato possibile Non è un mistero per nessuno L'ho dichiarato già alla stampa Che io sia a favore delle primarie Perché ritengo che il processo di selezione Della classe dirigente Deba partire dalla base E non debba essere imposto dal vertice La partecipazione diretta dei cittadini Alla vita politica Della propria città Sceglieremo il candidato migliore Più competitivo Quello che abbia più appile elettorale Più preparato Possibilmente onesto Di grosso spessore Morale E perché no Culturale Che possa rappresentare al meglio Le esigenze E le sensibilità di una città Ci sarà tempo Stavo dicendo prima La sua candidatura Magari nel 2020 Ma chi lo sa Se il signore mi darà vita e salute Perché no È un sogno che coltivo Non lo nego Mi piacerebbe un giorno Indossare la fascia tricolore Perché essere il primo cittadino Della propria comunità umana È il sogno Credo di Chiunque si accosti alla politica È però un progetto Che dobbiamo rimandare Perché credo che in questo momento Manfredonia La Capitanata Il Gargano I Monti Dauni Abbiano bisogno di un referente Di un'interlocutore Molto 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 sensibile Nel governo regionale E poi le cose verranno da sole Se l'elettorato lo deciderà E se Dio ci metterà anche la sua Ok, grazie Stato quotidiano Siamo con il senatore Lucio Tarquini C'è stata l'inaugurazione oggi Del cerco di Forza Italia Con Manfredonia Dopo l'ascissione del centrodestra Tra gli aspetti interessanti Del suo intervento Lei diceva Allora lo sviluppo si è fermato A Manfredonia Come mai? Riferamente al Porto Agli Atti Fondali Al Ginolisi No, si è fermato a Manfredonia Nel momento in cui c'è stata La crisi della società Di partecipazioni statali E abbiamo avuto il primo crollo Dell'Enichem Conseguentemente Con tutto ciò che voleva dire L'Enichem Anche di danni ambientali Ma con indotto incredibile Di trasporti ed altro Io conosco Manfredonia da sempre Sto a Sipondo d'estate L'ho sempre frequentata Perché mi sono anche interessato Di cooperazione Pesca ed altro Nei momenti di storia Sono stati figli Il segretario regionale Della Confuco Di quinto necessità E so che al momento In cui si è fermata A Manfredonia Quello che era l'ipotesi È crollato tutto Quello che abbiamo avuto I contratti di programma Lo sapete Quello che è accaduto E i signori Ci dovrebbero spiegare Come sono stati utilizzati Questi soldi Non so se ero io Il presidente Del contratti di programma Cosa mi sarebbe accaduto E comunque Le rapine Che tante imprese del nord Hanno fatto qui Allora io so che Il disegno della DC Da cui io vengo Era Manfredonia Come sviluppo E mi rendo conto In tutti questi anni Si riparte Si riparte dal porto Di Manfredonia Con le potenzialità Enorme che ha Sia di merci E di passeggeri Questo è il dato rifatto Però abbiamo Imi sono di opere Però c'è una tutta portuale Che viene contestata Che c'è il centro-destra Al di là delle appartenenze O meno si va a dire Io difendo Manfredonia Perché per me È molto più importante Di Bari stessa Come porto Vorrei continuare A difendere la flotta Peschereccia di Manfredonia Che è una storia diversa Per cui ci batteremo Anche per il ritorno Di alcune agevolazioni In quel settore Ma so benissimo Che servono soldi Perché quel porto Il porto parlando Degli altri fondali Lasciamo stare In astro Quel porto Ha bisogno di interventi Se so che servono Un minimo 80, 90, 100 milioni Di euro Per farne una cosa seria 30, 40 milioni Ci sono già in Regione Pol Non riesco a capire Perché non arrivano Speriamo di riuscire A ricavare gli altri Se si va avanti In questa legislatura Io ho creato le premesse Per averli Nella prossima legge finanziaria Per concludere Per quanto riguarda Gino Lisa Lei diceva Che è anche un disegno Di base Di vendola Per evitare Aspetto Perché fatemi passare Il termine Il nucleo di valutazione Che dice no E dice no Perché non per la storia Infrazione Aiuti di Stato Non c'è un piano industriale Vuol dire Ti do questi soldi Ma quali sono Le ipotesi di sviluppo Non c'è Ma è possibile Che si faccia Quest'errore Da parte La società ADP La società Aeroporti Puglia La società Aeroporti Puglia È 100% Regione Puglia Il sospetto Mi viene Perché Perché Nel momento In cui si fa Quella pista E da il basso Arrivano a Foggia Quello che diamo Alle altre compagnie Non faccio nomi Come contributo Per Bari e Brinzi Deve essere diviso Pure con Foggia E mi viene Un sospetto Che non si voglia fare Che non si voglia fare Quindi ci battiamo Velocemente Io ho fatto un comunicato Stamba molto duro Al riguardo Al riguardo Naturalmente Riportato poi Da alcuni quotidiani Su tre righe Senza dire assolutamente Nulla Ma siamo abituati A tutto questo Non fa niente Per cui Ritengo questo È una battaglia Seria Vi ho detto Il distesto Geologico Salvato adesso È tanto importante Per il nostro territorio Di questa provincia E dell'intera Puglia Sono battaglie Che faccio Non voglio applausi Da nessuno Perché lo ritengo Che riesco a fare Siano il 10% Di quello che dovrei fare L'ho fatto Per il prografo Dallo Stato E lei mi ha detto L'hai fatto Perché sei dipendente Beh in aspettativa Da 23 anni E prossimo alla pensione Non ho parlato Con nessuno Nei con città Nei con nessuno Ritengo di conoscere Alcune cose Le faccio Quando mi batto Assolutamente a niente Ho ridetto L'autorità Per la sicurezza alimentare A Foggia Che con legge È ancora prevista Non si fa Il governo Deve impegnarsi Nel problema Entro giugno 2014 A farla partita Perché sta ancora lì Perché se no Cosa ci rende A fare la bocca I vari ministri Delle adottorazioni alimentari E quello che accade Perché fanno danni Per 180 miliardi di euro E poi l'autorità Per la sicurezza alimentare Non la facciamo Semmai per non urtare Parma Che c'è una piccola cosa E basta Abbiamo fatto Un'autorità in Piemonte Sui trasporti Vedessero di essere Se il sud Non chiede nulla Chiede ciò che gli spetta La ringraziamo Grazie Posso che non ci sia ancora più me No